Sono Carlo Fiorani e sono un gastronomo. Il mio impegno per questa campagna elettorale è quello di cercare in tutti i modi di fare in modo che la gastronomia che è complessa e parte dall'ambiente, perciò i prodotti che arriveranno su Milano siano prodotti che arrivino da un'agricoltura periurbana fatta in maniera sostenibile e più rispettosa nei confronti dell'ambiente. Stiamo già lavorando a questo, stiamo cercando di fare in modo che qualcosa cambi. La città domanda questo tipo di produzioni e di impegno, è interessata e è rivolta a produzioni che arrivino da un'agricoltura pulita. Cerchiamo di portare avanti questo tipo di discorso, è ovvio che i prodotti dovranno essere veicolati sulla città, c'è un grande parco agricolo che è a sud di Milano che non produce per la città, non sarà soltanto il parco agricolo a portare gli alimenti in città, ma è necessario che si cominci da quella zona che sono 47 mila ettari di terreno coltivati a produrre in maniera più razionale e più rispettosa per l'ambiente, per la città e per le esigenze dei cittadini. Questo sarà il mio impegno prima di tutto, facendo in modo che poi si riesca a compiere un processo di educazione alimentare a partire dall'ambiente fino a quello che arriverà nei nostri piatti.